La nuova struttura si apre, o meglio, va a sostituire quella vecchia, basata su una progettazione green, sismicamente valida. Sì, una struttura molto importante che oggi trova a conclusione un iter amministrativo che parte dal 2016, che ha avuto una forte inerzia nel riprendersi a fine dicembre del 2020 con il commissario straordinario, il sindaco metropolitano, l'avvocato Falcomatà e poi successivamente con le dele che conferitemi nel febbraio scorso e oggi trova a conclusione un iter che vede una struttura completamente innovativa con la spesa più importante che abbiamo fatto come città metropolitana di quasi 6 milioni di euro. Una struttura che viene consegnata non solo al territorio villese, ma anche a tutto il territorio metropolitano per offrire una maggiore sicurezza, sicuramente rispetto a quelli che sono gli istituti, ormai molti di questi vetusti nel tempo che non hanno avuto la giusta attenzione, puntando sempre di più sulla sicurezza e sull'innovazione tecnologica. Quali saranno i tempi affinché gli studenti abbiano a disposizione la nuova struttura pienamente operativa? Gli uffici nostri amministrativi della città metropolitana da qui a qualche giorno completeranno quello che è il leader e quindi come struttura metropolitana noi avremmo concluso quella che è tutta la nostra fase burocratica e amministrativa. Attenderemo poi quelli che sono gli ulteriori pareri, quindi il comune di Villa San Giovanni, contiamo che nei tempi di realizzazione i progettisti ci dicono circa tra i 16 e i 18 mesi, sperando che ovviamente l'iter possa andare il più spedito possibile. Quindi, perdoni, ignoranza, gli studenti stanno attualmente frequentando, quindi per questi 16 e 18 mesi lasceranno la struttura? No, 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 gli studenti non stanno frequentando quella struttura in questo momento, quella è una struttura che ovviamente come abbiamo già più volte detto non è una struttura agibile per poter ospitare la popolazione studentesca, quindi avremo tutto il tempo necessario, ma neanche troppo tanto tempo, quindi questo mi permetto di dirlo, vigileremo affinché il tutto si possa consegnare nel più breve tempo possibile.